pronosti away istambul ce lo fai? no 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 noi abbiamo già vinto andando lì questo motivo ha fatto impazzire migliaia di giovani in italia si svegliano la mattina e cominciano a fare che posso fare? bellissimo che ore sono per favore signora? non ce l'ho non ce l'ho ma grazie comunque signorina signorina? mi tengono pesce tanto rosso